Allora, risposte di oggi Allora, Daniele88p Ciao, ho visto nel video dei log il feed sui biglietti di avviso Eh, te l'ho detto! Si chiama Card Observer Cercalo su Google, lo troverai al primo posto Card Observer? Per solo non mi ricordo che link è Ciccio Cartullo! In media, quanto spendete al mese per il cibo? Io non so, spenderò al massimo 300 dollari Massimo! Perché vado di solito due volte al mese a fare la spesa Ogni due settimane Poi compro cose semplicissime Tipo i granchi, i sushi, il pane Allora, di solito spendo 120 dollari 150 Poi, vabbè, a volte vado a mangiare fuori Ma ormai vado di rado Perché mi porto i cibi già fatti da casa Però ieri, ad esempio, sono andato a Quizno E ho speso 10 dollari Per un panino gigante Con 300 grammi di... Non so, roast beef dentro Molto bello col formaggio In media, una persona che lavora negli usa Quanto guadagna? Fai ovviamente degli esempi come Programmatore, grafico, poliziotto, buttafuori Mafioso, carrossiere, salumiere Eh, non lo so Io so il mio caso Io so che, ad esempio, se andate a lavorare in tipo... Tipo cassiere, in dei negozi C'era un mio amico che lo faceva Gli davano 12 dollari all'ora Poi... Però dipende, sì 12 dollari all'ora Non so, non so tanti Però dopo vi pagano anche Che so L'assicurazione medica Tutto quello lì, tutto coperto Allora Si può anche fare Poi io direi I media saranno 20 dollari all'ora Una media 20 dollari all'ora Poi La compagnia Che fa siti fatti benissimo Amici miei Quelli che hanno fatto sta maglietta E' tanto Prendono 175 dollari all'ora Poi Non lo so Poi ho un grafico che esce dalla scuola Il prezzo che viene indicato così Per i primi lavori 25 dollari all'ora Prossima DJ Roma 92 Ciao Ma si vive Veramente così bene in America Sì Però bisogna essere fortunati Cioè Se te Vieni in America E vai sotto una macchina E ti rompi una gamba E devi andare all'ospedale Non c'è la sucreazione Devi pagare 20.000 dollari Allora no Si vive malissimo Si vive malissimo Dipende Poi si vive male Perché ad esempio Se vai allo stadio Non puoi tirare un petardo Un fumogeno Cioè Se fai anche una rissa Tra amici Con I team foe Io sono Per i jaguar Ci sono Gli ultra Quelli della georgia Una rissa così PQ1 Va in prigione È uno schifo Basta Noi siamo Ultrali del jaguar Forza magic Ultra No Forza magic Jaguar Ultra 99 Tiger 66 Grande Quindi così Ultimo peschiola Splendid Fototifoseria Pescarese Metal GS Ciao Usi Windows PC Oppure Se hai una canita fan Come me Eppo Io ho uso Io ho Un Macintosh C'è un Macintosh Macbook Nero Però Forse Pesso mi compro Qualcos'altro Nuovo Ieri ho comprato Per il mio Macintosh De lavoro Macpower Una Hardisk Nuovo Erano da Tre anni Che usavo Uno da 80 GB Non ci stava Niente Dentro Ho comprato Uno da 500 Ero 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 Schifo Si potrà Comparare Da un Terabyte Si ma Per il Lavoro Non mi serve Così Tanto Perché Questo Sarebbe Il disco Basilari Per il computer Poi per i Backup C'ho Quelli Da Terabyte Mi deve Arrivare Papapero L'ho Comprato Su Macmall Per Soli 70 Dollar Blue Eyes 75 Avrei Alcune Domande Come Mai I tuoi Video Non durano Mai Più Di 10 Minuti Perché Youtube Mi dà Al massimo 10 Minuti Cosa Succede Nel caso Tu Sforri Questa Bandigliera Temporale Google Non me Li fa Caricare Nella serie La scienza In cucina Puoi farci Vedere La Scissione Dell'atomo E L'inizio Di una reazione Catena Si Lo farò Presto Ogni Volta Che vediamo I video Che ci Vediamo La gran fame Come Fai A non Ingrassare Perché Faccio Molto Moto Infatti C'è Un Arlene Davinson Bellissima La farò Vedere Un Giugno Puoi Consigliare La zia Selsa Una dieta Bilanciata Ricca Di potassio Mangia Molte Banane E Basta Solo Banane Frullate Di Banane Banana Fritta Zuppa Di Banane Banane Al forno Banane Lo spiedo Oppure Mangiati Del potassio Così Che Fa Bene Infatti Mi ricordo C'era un Mio Amico Che A scuola Si è fregato Il potassio E si è messo Nei Pantaloni Poi È iniziato È iniziato A piovere Il potassio Ha preso fuoco Però Lui adesso È molto ricco Di potassio E vive bene C'è qualche legge Che impedisce Di filmare Dentro L'upper Store Come mai Con filmare Ma non lo so Di solito Tutte le volte Che ho provato A filmare Qualcosa Nei negozi Dicono Non video Non video E che Parle Allora Siccome C'è la legge Ma alcuni Dicono Che si può Filmare Ovunque Dovunque Però Ti dicono Non video Non video E allora Filmo Con la micro spia Poi GTA 4 Italy Ciao Vivo in Angleterra Ucappa A Londra Ho una fondazione MMP Foundation Ho mandato Le richieste Sai quanto Tempo Mi risponderanno Non lo so Non so Io non ho mandato Nessuna richiesta A Youtube Ova Ova Octavarium Octavarium Deriva Da 8 Vario Vario 8 Ciao E da un po' Che dissi Volevo sapere Un sito Aziendale 4-5 pagine Molto semplici Se lo facessi Con un CMS Gli Costerebbe Più o meno Secondo me Costa di più CMS Magari Se ha 2000 pagine E va Valevole Però Per sitarlo Ci vuole un sacco Di tempo Se deve fare Un sito Sempre 4-5 pagine Non convene Usare un CMS Meglio farlo Normale Statico A meno che Usi Wordpress Un tema Già fatto In 5 Oh Ieri ho installato Wordpress Per un sito Che voleva Un CMS Ultra semplice Di una pagina Ci ho messo Un'ora Ho fatto tutto Ma la roba Si è facile GT T4 Italy Veramente ok Dai veramente Quando Il quadro Il video Qua Ah non lo so GT Come si fa A avere Il video Quadrato Sul canale Di Youtube Ma l'ha messo Youtube Da solo Non ce la faccio A finire Tutte ste domande Elettori Dovevo fare Un'altra puntata Comunque Volevo dire Che ieri Ho reinstallato Wordpress 2.7 L'ultima versione Devo dire Che hanno fatto I miglioramenti Molto belli Quasi più bello Di Expression Engine Si però Cioè Wordpress è gratis No? E allora è una merda Invece Expression Engine Si paga Allora è bello Ecco No però Vabbè Secondo me Ad esempio Io volevo Adesso I clienti Gli volevo dare Un ruolo Sempliciotto No? Sempliciotto Bene però Adesso ci saranno Sicuramente Plugin Adesso sicuramente Mi dirò Ma ci sto plugin No Io però Vorrei Dargli Proprio Quello che Customizzarlo La sua Il suo ruolo Anzi Vorrei creare un nuovo ruolo Customizzarlo Vorrei dirgli Allora Per questo cliente Qui fammi vedere Solo Esclusivamente posto E nient'altro Io invece Quello che ho visto Su wordpress Ci sono questi Cinque ruoli Gli dai Uno o l'altro Ma non puoi customizzare niente Allora Per il momento Di un certo Di Per il momento Per il momento